Bentornati su MyFootballGersey. Oggi vi voglio mostrare la terza maglia della Roma per la stagione 22-23, questa volta in edizione FAN. Introducendo un look unico, la terza maglia New Balance Roma 22-23 è principalmente nera, con un motivo grafico rosa e antracite sul davanti e sulle maniche. Questo modello rafficura una pletora di linee diagonali e verticali. I loghi degli sponsor sul petto sono bianchi e il polsino della manica destra presenta una striscia rosa circondata da due linee bianche. La terza maglia della Roma 22-23 ha debuttato nella partita di Europa League contro l'Helsinki, con la caratteristica distintiva del colore rosa utilizzato per le scritte sul retro. Come prevedibile, il logo oleografico non è stato approvato dalla UEFA e sembra essere stato sostituito da un badge standard. Questa maglia è in poliestre e dotata della tecnologia New Balance Dry. La maglia mi piace molto. Io ho un debole per le maglie scure e questa devo dire che è veramente molto bella. Nella mia classifica prende 4 stelle. Mi piace molto questo motivo con questo rosa. Una maglia che, se amate la Roma, sicuramente dovreste avere. Qui in alto vedete il costo, che vi ricordo include anche le spese di spedizione, quindi molto vantaggioso. In descrizione trovate tutti i riferimenti per ordinare la maglia. Andate anche a vedere perché c'è un link che potete usare per ottenere un coupon da 5 dollari e quindi il costo diminuisce ulteriormente. Ora vi lascio alla parte finale nella quale vedrete la vestibilità. Io nel frattempo spero che possiate regalarci un like e iscrivervi al canale. Per oggi è tutto ci vediamo alla prossima. Io sono alto un metro e 75 e peso 70 kg circa. Quella che vedete è una taglia media della versione fan. Grazie. Grazie a tutti.